Ciao a tutti ragazzi, bentornati su The Hypergamer Siamo oggi nel primo video di Call of Duty World at War 2 Un po' in ritardo rispetto a tutti gli altri Ma avevamo il nostro tempo per fare le altre cose Siamo oggi dentro il quartier generale Perché adesso andremo a iniziare qualche partita in dominio Perché dobbiamo livellare, perché siamo scarsi e siamo di livello 13 Diteci poi se volete una serie magari dove livelliamo Quindi, proprio per questo andremo a iniziare un po' di partite pubbliche Per livellare un pochettino, vediamo Tra l'altro notare l'elmetto speciale per quelli che hanno acquistato in beta Ok, già iniziato la partita, perfetto Mappa, Fleck Tower, perfetto Allora, le armi che abbiamo sono molto ridotte Perché ovviamente siamo di livello 13 Quindi non abbiamo un cazzo di armi Tuttavia, dovremo cercare di fare comunque qualche cosa di decente Cercando di scalare almeno fino a livello 16 Questo blocco abile perché almeno c'è qualche vantaggio durante la partita Allora, vediamo in sta mappa del cazzo Mi sembra abbastanza forte Allora, cerchiamo di fare una partita Quanto meno Ok, quello è già morto Quanto meno decente, dai Sì, è la prima partita Allora, cerchiamo di fare qualcosa di accettabile Perché non ne prendo uno? Oh, bello con questo Lo puoi succhiare, succhiare Ok, che mira di merda Guarda lì, tutti qua Crepate Oh, in alto livelliamo anche l'arma Così blocchiamo qualche accessori E siamo anche livellati Livello 14 Rode tu, maestro prestigio Ovviamente ci arriveremo molto in fretta Perché è molto easy Noi siamo dei pro gamer Che manco velox Comunque Allora, la partita sta andando relativamente bene per la squadra Stiamo vincendo Vediamo tutte le produzioni serie Che sniper stronzo Allora, come ero secondario Abbiamo messo questo lì Enfield Non so che cazzo Tutto a servire Ma cercheremo di farcelo Andare bene Perché è l'unico cechino che abbiamo Poi vabbè C'è il carmin Che vorrò chiamarlo cechino Un po' di insulto Sarebbe piaciuto Avere un bel car Perfetto Però Bisogna essere Di livello Adesso non so Comunque di sicuro Non di livello 14 Infatti Oh, attenzione Siamo ultimi Perfetto Che belle queste partite Ok, questo è un mio alleato La scena è Un mio alleato Ok, la scena è una subì Allora, adesso credo che lo spawn sia su C a questo punto Visto che Arrivano tutti da lì Deduco Che lo spawn sia Ah no, scusa Da Eh, perché sono dislessico E non so neanche leggere Ok, Molotov No, no, no Non uccidermi Non fare il Mona Ottimo Conquistiamo A E siamo Direi In un bel po' di vantaggio Perché 88-49 Sembra comunque Un buon risultato Di Madre Perché se Tarma qua Fano Cagare Però comunque I accessori giusti Livellandola un po' Devo ricaricare Miochia, quanti cazzo sono ancora tutti insieme Eh, allora, direi, conquistiamo un b Come ci pensano loro Io direi che possiamo coprire Mentre Ok, l'ho già preso Preso Da sdraiati Come essere cancro Ok, intervallo Minchia, stiamo stravincendo Miochia, questa partita ce la sentiamo Di manco con la mia casa Eh, 7 a 5 Sì, va bene Comunque, com'è Sendo che abbiamo un'arma del cazzo Sì Direi che questa La puoi anche tagliare Questa parte qua Ok, ricominciato Allora, cerchiamo di Continuare con una media Almeno positiva Per evitare Vabbiamo un centino Magari che c'è un po' Una ovvio Senza Montana È un po' difficile Ma faccio così Cagare Sì, faccio così Eh, senza l'abilità di Montana E' un po' complicato E' cecchina Ma comunque Allora Non passa nessuno Vabbè, abbiamo una morte Perfetto Perfetto Come buttare nel cesso una morte Finestra Cucidere l'ermico Ma tu Ho semi preso Catturano Baker Ok Ok 8-6 Allora Abbiamo tutte le posizioni Allora Sì, le partite o è Eh, stupendo Voglio difendiarle Abbiamo perso Ma poi l'audio su Premiere L'audio L'introfono Non è E Audio di gioco Sono separati No? Madono Madonna Guarda questo Che salta Che sei La pe maia Cittazione di loro Allora 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 Loro dovrebbero spawnare qua Se gli stintano Vieni Come cazzo ha fatto Quello a sopravviverli Hanno lasciato una gara Perché ho sparato un colpo Non un colore Già morto Allora Cerchiamo di aumentare un po' di livelli 18-18 Ovunque la media è sempre positiva Il mortamento era nostro Ok Sono tutti là Beh sì Continuiamo essere in netto vantaggio Quindi La partita sta andando Perché bene Vediamo se li passa qualche testina di cazzo Allora Stiamo catturando A Quindi direi che posso Andare là Dagli una mano No Forse è che non mi ha ucciso Dai Doppia Porca Ma era nostra Sì era nostra Perfetto Così Ammelo sicuramente Gli ho ucciso Quei due lì Ha un po' scordito Anche me Oh Jumpshot Me lo puoi sottchiare Oh perfetto Mi ha sbloccato un mirino Sì Gli obiettivi della vita Prendono Charlie No Non uccidami adesso Cancro di merda Beh direi che la partita di città si è portata a casa Molto Perché ho fatto una modus E ne ho su usare Sono un fenocchio Da dove? Da dove? Allora Sì la partita è finita Allora non sono neanche arrivati a 100 Imbarazzante Ok anche questo imbarazzante Perfetto Non siamo neanche arrivati a ultimi Stanno ritirando Ok Chi l'abbiamo fatto Vabbè a parte Quello che ne ha fatto 33 E ne ha fatto 10 prese Ma va bene lo stesso No No direi lo stanno tanto va anche molto molto bene Quindi direi che possiamo anche La mappa non l'ho vista Dominio Su San Maridumon La mappa che odio di più di tutto sto gioco Se Vabbè Ehm Siamo anche questa partita Dominio Questa mappa qua non è bellissima Perché Il punto B È un po' Sul lato Un po' in culo i lupi Però Va bene lo stesso La mitra elettrice qua non è che sia proprio il top dei top Ma Cerca di farci andare bene Visto che come unica alternativa abbiamo un brand del cazzo Che sicuramente non useremo Comunque Ehm Vero 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 Ok Iniziata E gli altri si prenderanno Siamo uno in meno Ma siamo seri Ma che sfiga dai Vabbè Allora sicuramente ci sarà qualche cancro Che camperà dentro le casette Ma noi Andremo a stanare questi cancri E non è già uno che voleva venire Quindi l'abbiamo impedito Da bravi anticancro E andiamo noi Allora direi che Da qua sopra Con la mitraglietta Potrei fare un bel po' di dandi Anche considerando che ho un cecchino Come secondaria Preso Perfetto Occhio che tra un po' questi mi salgo Ok quello lì è un nemico Pensavo fosse un nemico Mi lo credo in mano Ok là ne è passato uno Sicuramente adesso ci passa In faccia Perfetto Tra l'altro 3-0 Non sono ancora morti Adesso me la sono chiamata Quindi morirò di sicuro Ok qua c'è un alleato Direi che posso andare a coprire Ah no Ok va lui Passato qua non passa nessuno Credo che spawnino Da C Perché Fino a ora non l'abbiamo ancora conquistato Quindi Deduco Che il loro spawn sia da C Vabbè io provo a andaglielo conquistare Ok vedo che non sono solo Perfetto Bomba molto Siamo trincerati a Charlie Abbiamo perso Vorremmo andare su Vediamo Abbiamo perso il comando Magari Ok Non c'è ancora morto nessuno Ok Gli auto che esplodono a caso Non abbiamo ancora sbloccato nessuna delle armi nuove Peccato perché Sembrano Alcune sembrano molto belle Soprattutto il coltellino Che Ok là c'è uno sniper Che ho visto E lui l'ha visto me Quindi Sfida l'ultimo sniper Allora se è là dietro potrei fargli un colpo da dietro al muro Però consiglio anche Cazzo Vabbè dai la media è buona Comunque 3-1 Considerando che stiamo Un pelino perdendo Ma neanche di cegno È di non recuperabile Direi che posso anche provare ad andare Su B No 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 Ok perfetto Loro credo che spawnino di qua Perché ho visto quello sniper messo lì Ok ci portiamo a casa Lì Loro hanno preso C Adesso andiamo anche a prendere C Ok perfetto Vabbè dai 4-2 Siamo secondi Allora C'è ancora un cerchino Ah cerchino dall'altra parte L'altro l'ho chiamato un lancio di rifornimenti Proviamo a cerchinarlo da questa parte Magari Mi riesce Ok ecco l'ho visto Manca poco per Charlie No dai come ho fatto Prenderlo Eh senza montana è veramente difficile Tra l'altro qualcosa Ah potrei prendermelo dopo per provare a fare qualcosa Siamo in vantaggio Però vorrebbe dire Mandar a fanculo una media Ok ma ancora là Ma seriamente Uno Catturano Abel Colpi di mortaio nemici indietro Oh Prefe No dai non ci credo Vabbè dai abbiamo fatto una doppia col cecchino Mi piace molto Tra l'altro sto giocando abbastanza bene Considerando La partita di prima E' uno o è un cadavere No Non è niente Ok stiamo prendendo Charlie Quindi vuol dire che loro spawnano di qua Mi sembra Perfetto Allora No invece secondo me sono ancora su C Perché se hanno preso L'hanno riconquistata Vuol dire che sono lì Oh guardano lì Ah no E' un cadavere Ok Penso fosse uno Cioè ci prendono No su A Ci andrà qualcuno spero Sì Ci deve andare per forza qualcuno Muori Sì Allora Io non posso bestemmiare Perché altrimenti Il video va a fanculo Però Le sto pensando Le sto pensando le bestemmie Immaginate solo Queste Allora Comunque A parte il fatto che stavo per conquistare C Edano Ha Uno sputo dal conquistarlo definitivamente E quello mi ha lasciato una granata a cazzo Non c'è Non so se fosse lui Ok perfetto Ok perfetto Tutto lo mi aveva conquistato Subbino Oh no Dai non posso Ok va bene Sempre della serie Non posso bestemmiare i video Allora Intervallo Sì la partita comunque Ecco la mia Sì Perfetto Quanto mi piace questa cosa Anche qua pensavo di non averlo preso Perché lì Non me l'ha dato subito l'uccisione Confermati Invece me l'ha dato poi dopo Comunque Intervallo P-P-P-R-A-N-D-O Ok Qua taglia ovviamente Si ricomincia Questi quant'altro Prenderanno loro C E certo Mi farò un po' a prenderlo Ehm Allora Io direi Vado a vedere la casettina del cazzo Perché sicuramente adesso qua avrà qualcuno Ok Ok perfetto Colpi di lag Altra stiamo pingando pure bene 15 perfetto Promozione Oh bellissima questa Ok Ok va bene va bene va bene Tra l'altro su quello che ha fatto il clip della squadra Che Questamente Eh ok Sei morto Abbiamo una morta Però non useremo Adesso anzi dopo Nell'intervallo la cambio Ovviamente Perché Non sono capace usarla E quindi magari adesso con il grado 15 Non so cosa ho sbloccato però Spero Qualche streak Un po' più utile di questa Perché Altrimenti siamo messi un po' maligno Oh Guarda come l'ha difeso Perché non sono primo Ho fatto più kill Sono morto di meno Ah già Ma ho contato le prese Perfetto Va bene Tanto Io ti sparo 5 colpi Tu non muori Tu me ne spari 2 E sono morto Va bene Allora Come ci prendono Come vi permettete Voi l'uridem Guardalo Da sdraiato Che schifo umano 16-9 Ma come partite Però nella casa secondo me c'è qualcuno Quindi adesso provo ad andare A lasciare occhio agli angoli Sempre perché A casa delle palle C'è niente che cap... Bastardi Adesso qualcuno salirà no? B Occhio Bastardo Alla dietro Beh No Charlie no però Anzi Così così Quando Cominca stare a B Perfetto Da dov'è che mi sparano? Eh da niente Vabbè dai buono Buono Adesso direi che possiamo Ok L'ho già Sto Già prendendo B Anzi abbiamo preso B Però c'è nessuno che lo riprendono Ok Perfetto L'importante è che almeno l'ho tolto da B E così Non ce lo stanno più conquistando Tanto siamo in vantaggio Direi che siamo abbastanza sciagli Fuoco d'artiglieria nemico Al riparo La partita sta andando Molto bene 18-12 Sì ho fatto poche prese Però ho fatto un po' Ho difeso molte volte No Che cancro Questo sponchi il bastarde Magari si avvicina in modo ambiguo Non riusciamo a incularlo con la molotov La vedo dura Perché con la molotov faccio Veramente Cagare E infatti me la son lanciata addosso Però almeno l'ho ucciso una Cioè almeno questo mi va riconosciuto Catturano Baker Qualcuno su Baker c'è? No Cacca del cazzo Ok stiamo livellando l'arma In una maniera assurda Che palle Ma l'altro scusa Invece di starmi a guardare Non può sparare all'altro Catturano Abel Abel Ok l'hanno già ucciso Perfetto Ma seriamente l'ho ciccato? Faccio schifo Mi sto facendo ribre... E questo col coltellino Ma seriamente? Ma mi stai prendendo per il culo? Per chi mi hai preso? E la tentiamo così Catturiamo Baker No Vabbè se lo prendevo così Oh Sono primo Almeno questo Cazzo Ho fatto 21 kill Sono quello che ha fatto Più kill di tutti Bastardo di merda Esci testina di cazzo Va bene Gli ho sparato 40 colpi Non muore Allora Proviamo a cerchionare qua Vediamo se c'è qualche Spravveduto in piazza Che poi non è una piazza E' una via Nel cazzo Ma è bene lo stesso Qua dentro Non so se c'è qualcuno No Strano che qua dentro Mi sono accorto adesso che stanno Prendendo E non potevo fare niente Vabbè andiamo a incontrarci Ok perfetto Ci stiamo già pensando gli altri Beh raga direi che questa partita Ce la portiamo a casa Ok Tu muori Volevi stortirmi con la granata Ok I cadaveri che volano Così a random Ok E ce la portiamo a casa Dai che ce la portiamo a casa Dai che ce la portiamo a casa Eh perfetto Partita bellissima Giocato veramente bene Adesso vediamo dai Me lo dai un pacco Ok Due kill cam ragazzi Attenzione A qua che ho fatto la La smirata pazzesca Con la granata Beh dai buono Buono Pensavo peggio in sta mappa Perché di solito faccio sempre cagare in sta mappa Invece No Stavolta Dai Dammi un lancio di rifornimenti Dammi un lancio di rifornimenti Ma Ma perché Cioè Allora Credo di aver fatto la partita più bella Ok Tanto l'abbiamo livellato Almeno questo ci viene riconosciuto Siamo così a livello 16 Quindi perfetto Ok l'STG Oh un pacchettino di rifornimento Comunque l'abbiamo vinto Eh ok Abbiamo livellato anche la fanteria Caricatori extra Adesso si che è utile Perfetto Un lancio di rifornimenti Vabbè Vabbè Tra l'altro mi sembra di aver livellato anche Vabbè usciamo dalla lobby Tanto direi che Per oggi Il video finisce qua Queste due partite Sono state veramente due belle partite Soprattutto la seconda Eh Ci vediamo in un nuovo episodio Magari Eh Ditemi se Volete più su Un spacchettamento Del Dei pacchetti Che abbiamo vinto Che comunque vinceremo Eh Oppure un'altro Un'altra partita Eh Altre partite come questa Io vi saluto Bella a tutti Ciao 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 Ciao